outdoor by ispo prima edizione estiva della fiera outdoor siamo a monaco e con ambrogio merlo general manager di michelin è il nostro consueto momento per fare il punto della situazione aumentano non solo i brand che utilizzano solo a michelin nel mondo outdoor ma anche le soluzioni tecnologiche di performance che state offrendo quindi l'approccio che avete proposto sta funzionando si direi che confermiamo l'approccio strategico con il quale è nato questo progetto di michelin l'approccio strategico che ricordo che quello di portare innovazione in questo mondo e consegnare all'utente finale dei prodotti che rappresentano un'innovazione che si sente che si sente tutti i giorni quando colui che sceglie le scarpe dotato delle nostre suole le utilizza sui terreni più vari ecco citiamo per far capire meglio un paio di criticità o meglio di soluzioni che riuscite a proporre e quindi di performance che riuscite a portare sul campo che cosa richiede in questo momento per la maggior parte il mondo outdoor ma direi che al di là di quelle che sono le caratteristiche che generalmente vengono richieste alle calzature outdoor oggi c'è una tendenza molto forte alla ricerca di leggerezza di prodotto e alla ricerca di adattabilità ai terreni quindi quello che può nel mondo michelin è chiamato total performance deriva dal mondo dei pneumatici e quindi costruire dei prodotti che si hanno prestazioni elevate specifiche per ogni tipo di applicazione ma che abbinano a queste prestazioni grande leggerezza per migliorare naturalmente la prestazione in montagna ridurre la fatica e insieme a questa leggerezza l'adattabilità comunque a diverse situazioni ambientali questo è un po la nostra sfida possiamo confermare per concludere una tendenza sempre più chiara la settorializzazione alla specializzazione del prodotto quindi ad esempio calzatura e quindi suola specifica per applicazione specifica ma questo per noi è stato l'origine e deve continuare a essere se vogliamo raggiungere gli obiettivi di massime prestazioni massimo feeling non possiamo che andare nella direzione di coprogettare con i nostri partner delle suole perfettamente adattate alle esigenze di quello specifico prodotto di quello specifico settore questa è la nostra filosofia di base la nostra missione e la perseguiremo sempre perché fa parte del nostro dna